Ben trovati all'Orlando Fruosa, amici di Prima Radio. Oggi è martedì 9 novembre. Facciamo un passo indietro di qualche giorno e vi faccio ascoltare una dichiarazione fatta dal sindaco di Palermo, Leoluc Orlando, il 3 novembre, subito dopo la giornata dei morti. Lui ha parlato della situazione dei cimiteri della città, con particolare riferimento al cimitero dei Rotoli. Perché vi faccio ascoltare questa dichiarazione? Perché è, a mio giudizio, l'ennesima dimostrazione che Leoluc Orlando ha delle qualità ineguagliabili, perché ha il coraggio, ha la sfrontatezza, ha la capacità di presentarsi davanti alle telecamere e parlare di qualsiasi argomento, pur avendo piena coscienza di essere uno dei principali responsabili della disfunzione. Questo riesce a farlo perché è un grande istrione ed ha delle qualità uniche. Ecco perché io sostengo che nella prossima legislatura Leoluc Orlando dovrebbe comunque far parte del governo della città, non con cariche amministrative, ma con cariche rappresentative. Lui potrebbe essere un eccezionale ambasciatore della città di Palermo nel mondo. Per rafforzare il mio concetto vi faccio ascoltare cosa ha detto il 3 novembre a proposito del cimitero dei Rotoli. Il 2 novembre, il giorno dei morti, è un giorno di preghiera, di ricordo, di memoria, è un giorno di sofferenza rinnovata, ma anche un giorno nel quale accanto a tutto il lavoro che si è fatto per rendere accoglienti i nostri cimiteri della città, resta come una vergogna, resta come un orrore la condizione delle salme a deposito. L'amministrazione comunale sta facendo di tutto per cercare di affrontare e risolvere questo problema, esprimendo partecipazione al dolore dei familiari, ma anche al tempo stesso confermando l'impegno ad andare avanti. Non più mille, ma circa 800 sono le salme a deposito, non sono più salme a deposito per terra, c'è una condizione di pulizia e di ordine che ovviamente è molto migliore di quella del passato, resta certamente una condizione di emergenza che abbiamo affrontato con una convenzione con il cimitero di Sant'Orsola per il quale occorre però il consenso dei familiari. Abbiamo fino a mille posti disponibili a condizione che i familiari diano il consenso per la tumulazione a Sant'Orsola. Abbiamo provveduto alla cremazione anche qui con il consenso dei familiari, se vi è il consenso dei familiari, a totale carico dell'amministrazione comunale. Abbiamo disposto con una mia ordinanza, avvalendomi di poteri conferiti dal Ministero della Salute in occasione di questa pandemia, a sbloccare l'avvio della realizzazione di 424 tumuli provvisori che dovrebbero essere, questi loculi provvisori, essere disponibili entro febbraio. Abbiamo continuato la nostra azione di invito ai familiari a dare il consenso per trasferire queste salme ad Sant'Orsola o per consentire la cremazione. Contemporaneamente, per quanto riguarda il campo di inumazione, tendiamo che il Consiglio Comunale approvi il piano delle opere pubbliche per poter avviare la progettazione e la realizzazione di un campo di inumazione. Stiamo facendo di tutto, di tutto per uscire da questa condizione di emergenza. Certamente oggi si sta meglio di ieri, ma vorremmo che domani, se sia meglio di oggi, per non provare più come proviamo, come io provo, questa grande vergogna alla quale mi sento e mi assumo la responsabilità, pur sapendo i tanti fattori che l'hanno determinato, pur sapendo che pesa la mancanza di un cimitero, che pure in via di progettazione pesano le mancanze di risorse finanziarie e pesa anche contemporaneamente l'avvio di azioni opportune dell'autorità giudiziaria nei confronti di presunti casi di licità da parte di numerosi dipendenti dell'amministrazione comunale. Signori miei, lui è riuscito a presentarsi davanti le telecamere e a parlare in questo modo, pur sapendo che al cimitero del Rotolo ci sono da anni, da tanti anni, centinaia di bare in sepolte e abbandonate sotto dei capannoni, adesso perché prima erano in condizioni peggiori. Questa è una grande qualità, questa è una grande qualità perché il discorso fatto da Leoluca Orlando avrebbe avuto un senso se fosse stato fatto da un sindaco eletto da uno, due, massimo tre anni, ma non da lui, ma lui riesce a farlo passare per buono. Che significa? Che ha delle grandi qualità. Quindi, rafforzo il mio concetto, non perdiamo un rappresentante della città come Leoluca Orlando in un prossimo futuro. Potrebbe, con il buonsenso e la modestia da parte di molti rappresentanti politici, Orlando andare a rivestire una carica rappresentativa di Palermo nel mondo, con un nuovo sindaco, con una nuova giunta e lui come figura rappresentativa perché ha delle qualità eccezionali, credo, uniche nel panorama politico siciliano. Nessuno come lui riesce a far passare per buono anche qualcosa che è impresentabile. E allora perché sprecare queste sue qualità straordinarie che potrebbero essere messe al servizio della città? Capisco che il mio ragionamento può sembrarvi illogico, però potrebbe essere un particolare connubio tra Leoluca Orlando, rappresentante nel mondo di Palermo e la nuova amministrazione che renderebbe la nostra città unica al mondo. È tutto per il momento, l'Orlando Furioso torna nelle prossime edizioni.